Torniamo a parlare del punto nascite dell'ospedale di Sulmona e lo facciamo raccontandovi la bella storia di due genitori che hanno deciso di far nascere il proprio figlio a Sulmona e che hanno voluto condividere con il proprio territorio d'appartenenza la loro splendida esperienza. Siamo Andrea ed Eugenia, si legge nella lettera dei neogenitori giunta in redazione, e desideriamo raccontare la nostra esperienza e il nostro percorso, nella speranza che quanto da noi vissuto e provato direttamente, serve a rafforzare la fiducia nei confronti delle cose, delle persone, delle professionalità e delle strutture sanitarie presenti nel nostro territorio. Dopo aver scoperto che sarebbero diventati presto genitori, hanno chiesto consiglio a chi prima di loro aveva già avuto figli sulla struttura ospedaliera migliore per il corso preparto e soprattutto per il parto. Non possiamo sottacere che in molti casi, sottolineano i due coniugi, ci siamo sentiti indicare le strutture ospedaliere di Chieti, Pescara e altre località, tanto da convincerci in un primo momento a seguire i medesimi percorsi. Andrea ed Eugenia però hanno deciso alla fine di frequentare i corsi preparto presso l'ospedale di Sulmona, dove hanno trovato affidabilità, grande professionalità e vicinanza umana e solidale delle operatrici, tanto da decidere di affrontare anche il parto a Sulmona. Dal primo istante del ricovero fino agli attimi preparatori e al parto in sé, forte e incessante è stata l'attenzione e l'assistenza medica e paramedica, prosegue la lettera. Attenzioni, accortezze e vicinanza umana, prima che tecnica e medica. Attenzioni che sono state così intense e organiche con i nostri sentimenti di gioia, ma anche con i timori che stavamo vivendo, tanto da farci affrontare con serenità, forza e coraggio un momento così tanto atteso. Per questo motivo i neogenitori rivolgono a tutti coloro che aspettano un figlio l'appello ad avere fiducia nelle strutture del nostro territorio, in special modo nei confronti dei reparti di ostetricia, ginecologia e pediatria dell'ospedale di Sulmona. Il nostro punto nascite. Infine, i due genitori rivolgono un accurato appello alle istituzioni, affinché venga impedito lo smantellamento del punto nascite, ribadendo l'importanza per i giovani nati e cresciuti in questo territorio ad avere a disposizione strutture sanitarie e di servizio efficienti e moderne. Grazie. 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 Grazie.